Dove li portano? Transporte. Palabra misteriosa, amico. Lavoro, forse. Oppure donci d'acido brusico, forni crematori. Ma tu come lo sai? Chi sei? Sono pratico della muerte, sono un anarchico falito. Tre attentati, Mussolini, Hitler, Salazar, tutti faliti. Mi vengono male le bombe, amico. Questi, invece, sono industriali della morte. Mannaggia che la zoccolo, mannaggia. Ma che succede a sto mondo? Ma quando è stata che il mondo è diventato così? E noi ci facemmo accidere in questa maniera? E nessuno dice niente. Ma come, gli ebrei? Ma che caspita, che erano tanto forbi, tanto feglientro occhio. Gli russi che hanno fatto che la popò è rivoluzione, ma... E noi si ribellano. Ma è proprio destino mio, finì in posto e merda come ha chiesto.